Mi chiamo Gabriele Faulis, ho 24 anni e vengo da Torino. Ho dato anche un pezzo recitativo per farmi notare a un'idea di Beijing State. Cavolo! Attenzione, sta bene. Devo chiamare assolutamente Federica. Pronto, signorina. Come sta mio zio? Non si sente bene? Ma come? L'altro giorno stava bene. Va bene. Dica a Galilea che arrivo subito. Va bene. Ok. Va bene. Ok. Lo tranquillizzi. Ma dica che ne arrivo subito. Ok. Benissimo. Salve. Oh mamma. L'azio non sta bene. Ti avevo detto che non devono bere alcolici prima di una serata. Grazie. Grazie.